prima o poi doveva succedere è successo oggi assisterete a qualcosa di unico unico per la prima volta non ci sarà una cover in italiano ma una cover e basta ci sarà il primo duetto del canale solo con la voce ma è un duetto è un duetto mai sentito parlare di Lady Lalla non mi resta nient'altro che augurarvi un buon ascolto una buona visione e si finalmente anche io mi sono aggiornato sono qui con il mio nuovissimo orologio il non plus ultra della tecnologia ci voleva proprio ma non è assolutamente un orologio normale è uno di quelli l'ultima generazione uno di quelli che non prende nota solo del tempo che passa ma di ogni altra cosa di ogni altro parametro bassi calorie tempo di attività massa grassa massa magra qualità del sonno livello di stress altitudine longitudine temperatura meteo gps composizione millimetrica registra l'ossigeno nel sangue la pressione arteriosa l'ecg possa effettuare i pagamenti direttamente dall'orologio può anche rispondere per effettuare chiamate ma vi dico che già su questo la situazione è molto particolare perché immaginate uno che viene in giro così a parlare con l'orologio e la gente che mi fissa in maniera così strana per strada a quel punto o sei una spia o diciamo che e fin qui tutto bene lo sto usando da già da parecchio però piccolo dubbio che mi assilla non so se avete sentito quei servizi e telegiornali dove viene detto che grazie all'un strumento del genere molte persone si sono salvate magari aveva dei valori sballati quindi necessitava di prevenire determinati mali bisogno di cambiare le proprie abitudini non vorrei che mi accadesse qualcosa del genere perché una situazione molto strana beh ho un po di vergogna a dirlo non lo nego secondo il mio orologio sono al diciassettesimo giorno giro non so più che fare 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 non so più che fare